ok allora qual'è il manicomio? eccolo qua eccolo qua allora zitti un attimo zitti un attimo allora manicomio è stato abbandonato da anni l'unico occupante normale consigliato 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 ok ok quante ne compriamo? sempre al massimo quattro si possono prendere io ne prendo due tre oh vado il potessato vado il potessato a Gigi Acostino non c'è mazzo non c'è mazzo secondo me è sopra no 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 qua sotto si sente forte qua qua siamo a 13 gradi fissi pericolo ecco telefono ok ecco 2 2 raga speedbox qua dentro chet quattro segnati abbiamo capato laisione che ha più in ultima trattata inoltre metto la soggettiva rossi che uno si rossi che uno si rossi che uno si rossi ora la certa attrazione ci voglio credere più di una porta questo sito box e c'è la croce c inglese sull'ultima non chi è una cilliter? puttana puttana si vede un puttana eccola 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 puttana non è che è una cilliter però poi se fai così è normale che muori per primo non parlare non so se sei il generatore pensi il generatore un'altra volta ah no 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 il beatbox ce l'ho io lo vogliamo mettere nel coso si 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 lo ce l'ho già messo bisogna metterlo tu aspettate che lo metto pure io oh oh aiuto aiuto mi attaccato mi attaccato mi attaccato mi attaccato aiuto eccola 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 raga dentro da voi e dentro voi ma che cazzo puoi fantastica ce l'avevo davanti ce l'avevo una cosa piccirina te lo giuro te lo giuro piccolina non perdiamo tempo allora ho ripreso il fantasma ho fatto la foto al fantasma mettete lo speedbox per favore ora è cullano è porco di dissi no raga le foto raga preparate la foto l'ho fatto già io la croce cazzo moria 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 sono morto moria chi ha ucciso? no raga è morto no minchia moria eh zombe zombe ah zombe jennifer miller quanti anni hai? minchia è poi cittissima jennifer miller puoi parlare? Jennifer Miller Porca droga, che lampeggia subito quando la chiamo Raga, siamo morti Cazzo, cazzo, cazzo Cazzo, cazzo Guarda se ne amara, se ne amazza Cazzo Vedi che ho qui c'ha fare fede in questa stanza Orca droga, ho parlato Metti dietro di me Metti dietro di me Metti crocifisso Allora, fai così, se casomai tu usci l'essere Oh, vieni qua Se tu, casomai tu usci l'essere, metti dietro di me Con il crocifisso Va bene Oh, il libro, prendilo e piazzalo con F sul tavolo Non devi buttarlo a terra Ah, non lo sapevo, ho fatto Ok, ok Ora, bisogna, potete anche andarvi Lasciate fare al fantasma quello che deve Però ogni tanto tornate a controllare se ha completato No, porca troia Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni, vieni Cazzo, 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 cazzo Cazzo, 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 cazzo Cazzo, cazzo, cazzo Non vi va ad avvicinare Dove ho messo, vedi, che c'era del 6% Cazzo, cazzo, cazzo Vieni, 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 vieni c'è la stanza ma io ci visto tutto io mi sceglie chi porta aspetta dai cazzo tanti ma non lo so aprire vai butta dai andiamo minchia eccola vieni qua vieni qua vieni qua vieni qua seguimi seguimi minchia mi ha preso mi ha preso mi ha preso mi ha preso l'ho sentita ho sentita minchia murio è morto qualcuno adoro adoro è morto